Un saluto a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale di approfondimento sulla città di Vallefoglia. Prima di iniziare io vi ricordo che i protagonisti di questa trasmissione potete essere voi, il nostro pubblico. Come? È semplicissimo, attraverso una segnalazione o tramite WhatsApp, qui trovate le numeri in sovrimpressione, oppure inviandoci una mail alla mail di redazione valefogliacchiocciodauroscinitv.it. Potete inviarci semplici messaggi di testo, messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp, oppure foto e video. E noi poi provvederemo appunto ad andare un po' a segnalare la cosa e vedere che cosa si può fare. Iniziamo però subito con la prima notizia di questo telegiornale. A seguito dell'epatto per la sicurezza urbana siglato qualche giorno fa, gli agenti della Polizia Locale e dell'Unione Comuni Pian del Bruscolo presideranno il territorio anche di notte. L'orario, che va da l'una di notte alle 7.15 della mattina, nei giorni di sabato e di domenica, assicura un implemento per quanto riguarda tutta la sicurezza del territorio. Bisogna intensificare l'attenzione sul Covid mantenendo le mascherine, le distanze e l'igienizzazione, perché questo significa tutelare la sicurezza e la salute nostra. Poi vorrei complimentarmi con la brillante operazione dell'arma dei carabinieri, il maresciallo Giabani con tutti i suoi giovani carabinieri per aver arrestato un paio di spacciatori e averne fermato una decina nella città di Vallefoglia. Questa grande operazione che fa da pandanne il grande lavoro che i carabinieri fanno a Vallefoglia insieme anche alla Polizia Locale che grazie l'accordo con i sindacati in H24, almeno nei weekend. Quindi una grande collaborazione, serietà, rigore, sicurezza, sicurezza dal punto di vista ambientale, ecologico, della tutela della salute, sicurezza dal punto di vista dell'ordine pubblico e del rispetto delle norme e delle regole. Grande operazione antidroga, va al plauso della città di Vallefoglia, il mio personale della Giunta e la collaborazione che abbiamo sempre con Prefettura e Questura, con l'arma dei carabinieri, con tutte le polizie dello Stato sono importanti perché danno più serenità, più sicurezza, più trasparenza, più limpidezza nell'azione di governo di questa città che è una città forte, che cresce, che guarda il futuro, che tutela la salute, che tutela l'ambiente e che tutela la sicurezza della nostra comunità, dei nostri cittadini e che punta sempre alla piena occupazione, perché questo è l'assillo principale, perché quando uno ha la salute, la sicurezza e il lavoro, diciamo che sta, non dico da Dio, però sta bene e guarda con speranza e fiducia al futuro. E a proposito di sicurezza, proprio in questa settimana è stato sgominato un sodalizio criminale dedito al traffico allo spazio di sostanze stupefacenti che ha portato a due arresti e a 12 perquisizioni domiciliari. Noi siamo riusciti a parlare in esclusiva con il comandante Int della compagnia dei carabinieri di Pesaro, Marco Cardone, che ci ha spiegato come si è svolta questa importante operazione. Sì, l'operazione è consistita in una serie di perquisizioni e due arresti effettuati già dalle prime ore della mattina, in contemporanea da un grande numero di militari per l'esigenza di evitare la comunicazione fra i vari indagati e quindi c'è stato dietro un coordinamento al fine di procedere a tutte le perquisizioni nello stesso momento. Parliamo di un reato di tipo associativo finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti di varia natura e riteniamo che questo tipo di gruppo di persone non fossero soltanto singoli, ma un gruppo che presentava pur nella sua dimensione locale tutti i caratteri tipici delle associazioni organizzate, in quanto avevano una organizzazione gerarchica, una strutturazione dei compiti ben definita, avevano capacità di intimidire anche in caso di debiti non pagati da clienti, hanno disponibilità di mezzi e addirittura delle strategie comunicative, in quanto facevano sì che fossero pusher della stessa fascia d'età a gestire clienti della stessa fascia. Quindi il ventenne aveva più facilità a parlare col suo coetaneo, ovviamente, questo anche per favorire l'affezione del cliente. Dopodiché devo dire che l'operazione è stata, anche dal punto di vista dell'arma, rimarchevole in quanto origina completamente dal comando Stazione Carabinieri di Montecchio di Vallefoglia, che è un comando della nostra organizzazione territoriale e quindi non è un reparto deputato unicamente a finalità investigative, ma anzi condivide con gli altri comandi e le altre strutture sul territorio tantissimi tipi di compiti anche amministrativi. Quindi quest'indagine, che è durata più di un anno, nasce proprio dall'intuito dei singoli carabinieri sul territorio. Un pregiudicato è stato notato un giorno molto lontano dalla zona d'origine, una persona fermata due giorni dopo con dello stupefacente, anche se in modica quantità. Tutti elementi che hanno, diciamo, stratificato queste osservazioni e contribuito a creare il sospetto che qualcosa di poco chiaro si stesse perpetrando. Questo è possibile proprio grazie alla capillare distribuzione dei comandi dell'arma dei carabinieri sul territorio e quindi anche nelle piccole realtà abbiamo questa capacità penetrativa e repressiva contro la criminalità, anche di tipo organizzato. Chiaramente poi il modello arma è che dal piccolo poi arriva al supporto delle strutture più grandi, in quanto sono stati messi a disposizione circa 30 militari più carabinieri cinofili per poi la fase finale conclusiva dell'operazione. Ma del resto questo si era già visto nel territorio proprio di Vallefoglia nei mesi pregressi con l'utilizzo delle SIO, le squadre di intervento operativo, che hanno coadiuvato i militari del posto proprio nell'attività preventiva dei reati e quindi anche in occasione del mercato, piuttosto che delle giornate del weekend e soprattutto nel periodo estivo, questo tipo di controlli hanno contribuito al mantenimento dell'ordine della sicurezza pubblica, della prevenzione della commissione di reati. Per finire, commissione di reati che, devo dire, sta dando dei risultati soddisfacenti in quanto ci sono stati diversi episodi, purtroppo di cronaca locale, ma abbiamo avuto praticamente in tutti i casi, sia che si trattasse di truffe online, sia che si trattasse di maltrattamenti, risse che hanno trovato risalto sulle pagine dei quotidiani e altri tipi di reati, hanno sempre trovato uno sbocco investigativo che ha consentito di arrivare all'individuazione dei colpevoli. E ora cambiamo argomento. Siamo stati all'interno del mercato di Montecchio, abbiamo intervistato diversi commercianti riguardo all'argomento Covid. Tutti hanno espresso la loro gratitudine per le persone che frequentano il mercato e che rispettano le regole, auspicando però che questa situazione possa presto migliorare e che non si ritorni ai mesi di marzo e di aprile. Riguardo la situazione che stiamo vivendo, è preoccupante come in tutti i settori, anche i nostri settori ambulanti, purtroppo abbiamo questa preoccupazione. Però diciamo che anche riguardo i mercati che noi frequentiamo, se stiamo in sicurezza, la sicurezza la facciamo per noi e anche per i nostri clienti. E allora possiamo anche continuare nel lavoro perché sennò è una crisi totale. Per noi, perché è tutta una catena, per i nostri grossisti, per ognuno di noi. Perciò cerchiamo di proseguire in questa maniera che penso che sia la più insomma sistematica che possa essere, avere sicurezza per noi e per gli altri. Riguardo alla gente, un po' di preoccupazione c'è. Rispetto a prima, adesso magari viene un po' di meno al mercato e più spende anche un po' di meno perché ha paura che se viene un lockdown, logicamente, i soldi sono pochi. Tutto qua, dai, non so cosa dirti. Il problema ce l'abbiamo un po' tutti nel lavoro. Siamo anche noi preoccupati perché dai, con questo nuovo decreto la gente ha un po' paura di spendere i soldi. Allora la situazione al momento è devastante perché la gente ha molta paura e con questa paura non sono invogliati per niente a spendere. Speriamo che non richiudano tutto perché sennò noi siamo la canna del gas, perché le casse integrazioni tardano ad arrivare e i dipendenti comunque non possono rimanere a casa senza stipendio e noi abbiamo bisogno di lavorare. Già a febbraio e marzo è andato molto male perché tutta la roba estiva che avevamo comprato l'abbiamo dovuta svendere a prezzo di costo e quindi noi non sappiamo come fare. I 600 euro di conto non ci hanno aiutato per niente. vediamo i mezzi pubblici strapieni, al mercato la gente è brava rispetto alle regole e quindi non capiamo perché continuano a dare restrizioni su restrizioni a noi mentre loro non fanno assolutamente niente. Sì però preoccupazioni c'è però è anche un momento critico perché anche per il lavoro nostro sono proprio andava male, non è un lavoro proprio che andava bene perché anche questo anno noi è stato proprio massacrato, non si fa niente perché ho tolto le file, i mercati non c'è più gente, le bollette vengono sempre, non si lavora. Adesso speriamo che migliori un po', però non vedo che sta migliorando, non so come andiamo a finire. Non c'è lavoro, fanno pagare anche i posteggi, fanno pagare anche le mondesi, fanno pagare, però non c'è lo stesso, non è che vengono contro per dire che si può pagare per questo anno, lo lasciano perdere per questo anno per pagare le posteggi, perché il lavoro non lavoriamo, c'è una famiglia, c'hanno la spesa. Vediamo che la gente si comporta abbastanza bene, sta mantenendo abbastanza le distanze, sono insomma dai premurosi per la loro salute e anche per gli altri. Il mercato un po' ne ha risentito perché tanto stanno facendo anche un po' di paura e quindi comunque la gente è preoccupata. Sì, c'è preoccupazione magari che si possa di nuovo ricamare a chiudere un po' tutto? Ma io penso di no, io voglio essere positiva, che non si richiuda il tutto, magari se stiamo attenti, usiamo come ho detto prima, stiamo attenti al tutto, non si ritorna alla chiusura totale. Guarda, la preoccupazione ci sta per la situazione generale, ce n'è un po', però io vedo che qui nel mercato la gente è molto molto brava, non ho mai visto nessuno senza mascherina, senza le devute preoccupazioni e sento un po' di preoccupazione, colpa anche della televisione, che la gente è un po' preoccupata, però dai, cerchiamo di conviverci con questa situazione, tanto penso che non si risolverà per adesso, quindi bisogna imparare a conviverci senza avere molta preoccupazione, tirare avanti e vivere la giornata. La gente è più preoccupata, spende un pochino meno perché tanto non sanno cosa succederà nel futuro, quando uno non ha la certezza del futuro penso che sta un pochino più attento, però noi cerchiamo con i prezzi bassi di far spendere la gente. Sono di Pugliese, di origine, però abitiamo a Fano, facciamo i mercati in tutta la zona delle Marche, Fano, Pesaro e Montecchio. Devo dire in questa cosa per il Covid, che devo dire che al mercato sono veramente bravissimi la gente, i clienti, tutti con le mascherine, tutti, va bene, dai, sono molto, cioè si tengono a distanza, invece vedo che anche nei supermercati a volte tutti stretti, no, il mercato va bene, quindi penso che sia sicuro. E il lavoro anche, va bene, non posso lamentarmi, la gente ti dico viene al mercato anche perché sa che la roba è fresca e quindi per quanto riguarda i nostri prodotti alimentari che portiamo dalla Puglia, continuano a venire, sono fiduciosi, viene così, speriamo che continuano così a venire al mercato, l'invito tutti perché siamo più sicuri essendo all'esterno e non all'interno perché nei supermercati, ripeto, toccano tutto e non è proprio sicurissimo, invece io non faccio toccare nulla, glieli do io i prodotti che devono comprare, così. Voglio dire, va discretamente, però la gente ha paura, è capito, non è una cosa semplice, ha paura, abbiamo paura anche noi perché dobbiamo sempre contattare sempre con la gente, è fatica, può darsi, uno non sa se, siamo sempre a contatto con tutti, siamo tutti alle regole però spero che questa pandemia ci lasci il più presto possibile, perché per il bene di tutti, per tutte le cose, perché se richiudiamo come a marzo-aprile ci tocca chiudere veramente, ci tocca chiudere l'attività veramente perché non gliela facciamo più, veramente, speriamo di no, speriamo di no. Anche tu i simboli di porta fortuna nelle mani. Dì, ecco, hai detto proprio la parola esatta, speriamo bene che il Signore ce la mandi bene, io mi rivolgo sempre a Lui, sempre, speriamo che ci aiuti. E adesso parliamo di lavori pubblici perché sono iniziati proprio in questa settimana i lavori di riqualificazione di Piazza Rossini a Bottega. I lavori dell'importo complessivo di oltre 70 mila euro sono eseguiti dalla ditta Mulazzani SRL di Pesaro e consistono nel rifacimento della pavimentazione con lastre prefabbricate, con una nuova illuminazione con tecnologia a LED ed un nuovo arredo. La riqualificazione della piazza apporterà un valore aggiunto a tutta la frazione e ne stimolerà la frequentazione incentivando lo sviluppo delle attività sociali e commerciali. Con l'inizio dell'esecuzione dei lavori, la cui durata sarà di circa un mese, il mercato settimanale che è solito svolgersi nella giornata delle mercoledì in Piazza Rossini si terrà sul lato opposto di Via Nazionale, nelle piazzale dietro il centro commerciale per ritornare poi a fine lavori nel suo solito posto. Nell'edizione della passata settimana delle Vallefoglia Magazine abbiamo parlato della possibilità che venga realizzato un impianto di biodigestore a Talacchio. La presidente di Lega Ambiente a Pesaro, Rosalia Cipoletta, ha tenuto a ribadire quale può essere l'utilità di un impianto di questo tipo per il nostro territorio e quali benefici può portare. Vediamo il servizio. Come già abbiamo detto la scorsa settimana, nell'intervista rilasciata a voi ma anche nel comunicato inviato ai giornali, abbiamo un po' ripreso la discussione sul biodigestore e sulla sua utilità, alla luce anche delle cose che ci sono state riferite da alcune persone residenti nella zona preoccupati per l'ambiente, preoccupati che il biodigestore possa portare più scompenso che vantaggio. Noi ribadiamo nuovamente che certamente non spetta Lega Ambiente dire dove si dovrà fare il digestore, quindi questa sarà una scelta che faranno gli enti locali unitamente alla società che vorrà costruirlo. Sulla invece bontà del biodigestore ribadiamo quello che abbiamo già detto perché noi siamo assolutamente convinti che sia un modo giusto per ridurre, anzi per prendere dai nostri rifiuti quello che i rifiuti possono dare lavorandoli in maniera adeguata e cioè biometano come abbiamo già detto e compostabile di qualità. In punto alle tecniche quindi di questi impianti noi sappiamo benissimo che ci sono delle leggi ferree da questo punto di vista che per far sì che si abbia un'autorizzazione a costruire un biodigestore ci vogliono delle caratteristiche assolutamente precise e che garantiscono l'assoluto non inquinamento sia dell'ambiente e sia nei confronti delle persone. Allora per esempio la storia dei fumi, la storia della fuoriuscita o di liquame sono tutte cose che non stanno in piedi perché in realtà noi parliamo a questo punto di impianti che sono pressurizzati, che lavorano quindi a secco, che quindi non possono emettere né odori né ovviamente altre cose dannose per l'ambiente o per la salute dell'uomo. Tuttavia è comprensibile come un ragionamento sul biodigestore vada fatto in maniera tecnica con persone esperte e soprattutto vada informata la cittadinanza laddove si dovesse costruire proprio per rassicurarli ed informarli con progetti alla mano, con tecnici esperti affinché vengano chiarite tutte le posizioni che possono sembrare ancora ambigue o non chiare. Noi di Legambiente siamo per costruire un colloquio di questo genere con la cittadinanza laddove si dovesse costruire l'impianto che ancora non sappiamo esattamente dove verrà costruito e siamo anche dell'opinione che si dovrebbero formare un comitato di cittadini che possa seguire non solo la lavorazione, l'impianto eccetera ma anche dopo, anche dopo tutto quello che avverrà quando il biodigestore sarà funzionante perché questo è una cosa giusta, è una cosa logica ed è una cosa che se i cittadini lo chiedono e se la faranno e se lo faranno il comitato sarà una cosa da noi senz'altro appoggiata come Legambiente. E dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia delle Covid questa settimana sono ripartiti i servizi dell'associazione Nonno Mino. L'associazione, che ricordiamo essere un'importante realtà nell'occuparsi di persone malate di Alzheimer o delle morbo di Parkinson, è quindi nuovamente operativa. Noi ne abbiamo parlato con la fondatrice e presidente Bruna Di Berardino. L'associazione Nonno Mino dopo molto tempo, diciamo con le porte chiuse, finalmente riapre i servizi. È stato veramente un lavoro molto difficile perché chiaramente siamo un'associazione di volontariato, però con costanza, con decisione e con forza, perché le parole servono poco ma ci vogliono veramente azioni sul territorio, siamo riusciti ad aprire i nostri servizi. I servizi sono attivi a Montecchio di Vallefoglia con un orario dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Poi abbiamo riattivato, il servizio di Montecchio si chiama il giardino delle emozioni, abbiamo riattivato Casa delle Vigne in Urbino il lunedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12. E poi abbiamo proprio, diciamo, inaugurato Rio Salso di Tavuglia, è uguale che si chiama Casa Frusaglia ed è aperto dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì. E come ho detto questo è veramente stato un lungo lavoro, ma in rete, in rete col distretto di Pesero, col distretto di Urbino e con la TS numero 1. Quindi abbiamo aperto veramente con tutte le precauzioni possibili, abbiamo sanificato i locali, tamponi per gli operatori, cioè veramente abbiamo fatto tutto e più, ecco. Vediamo veramente, speriamo veramente che di poterli mandare avanti i servizi e il numero degli operatori volontari è rimasto lo stesso e abbiamo dimezzato chiaramente per problemi, insomma, di metratura all'interno dei locali. Siamo veramente molto contenti perché non vedo servizi aperti sul territorio, questa cosa mi dispiace tantissimo. Io penso che se una persona veramente ha come scopo la solidarietà umana e possiamo fare veramente tanto. Noi l'abbiamo dimostrato con azioni pratiche, poche parole, ma riaprono i servizi. Penso che questo sia veramente un messaggio molto importante. Volevo inoltre dire alcune novità, ultime novità. Noi abbiamo cominciato anche dei lavori in una struttura Pesaro grazie al prezioso, proprio fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e dell'amministrazione, tutta l'amministrazione comunale di Pesaro. È una struttura e quindi ospiterà anziani, anziani fragili e abbiamo già iniziato i lavori. Quindi speriamo che nel giro di pochi mesi possiamo anche dare una risposta concreta anche alla città di Pesaro. Un altro, poi un altro servizio, per ultimo, è Monte Calvo in Foglia, uguale, e avremo uno spazio di 300 metri quadri e sono gli ex spazi delle materne, delle scuole materne e quindi anche nel Comune di Monte Calvo attiveremo un percorso virtuoso sia con l'amministrazione sia con i cittadini. Insomma, noi ci crediamo molto alla solidarietà umana e spero che non sia solo un sogno dell'Associazione Nonomino. Ci sarà anche a breve una inaugurazione qui a Montecchio di Vallefoglia perché abbiamo fatto un murales veramente bello da un artista che lavora al Teatro Rossini di Pesaro quindi veramente, diciamo, un disegno egregio e quindi ci sarà una inaugurazione. Volevo ricordare inoltre che all'interno della nostra associazione prestano veramente volontariato 30 figure e la maggior parte professionali e quindi, diciamo, è un volontariato un po' professionale nel senso che i volontari o sono formati oppure sono proprio figure professionali la maggior parte sono psicologi, educatori c'è l'insegnante di ginnastica, il musicoterapeuta. All'interno dei servizi ricordo che sono tutte attività che servono all'anziano fragile proprio per mantenere le attività di vita quotidiana di vita e strumentali di vita quotidiana e quindi cerchiamo di mantenere il suo benessere e soprattutto di tenerlo il più possibile autosufficiente. Crediamo molto nell'inclusione sociale e quindi sono servizi molto inclusivi perché noi operiamo tanto sul territorio quindi, insomma, cerchiamo il più possibile che la persona rimanga nel proprio contesto sociale, familiare e di appartenenza e questa è la motivazione perché in ogni comune dove andiamo praticamente cerchiamo di aprire un servizio proprio perché l'anziano deve rimanere a casa propria però gli viene data la possibilità anche di integrarsi proprio nel suo contesto sociale proprio nella sua comunità. Il comune di Vallefoglia ha aderito alla rete Redi la rete italiana delle regioni, province autonome ed enti locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni di orientamento sessuale e di genere. Sulle tema sono intervenuti l'assessore alle pari opportunità Daniela Zaroni e il giovane consigliere comunale di Vallefoglia Zanluca Vichi. Nella giunta del 6 ottobre l'amministrazione di Vallefoglia ha approvato l'adesione alla rete Redi cioè la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazione per orientamento sessuale ed entità di genere. L'adesione a questa rete nasce dalla volontà di mettere in atto delle azioni concrete e contro le discriminazioni soprattutto nei riguardi delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali o transgender che vengono riassunte nella sigla LGBT che troppo spesso ancora nella nostra società vivono delle situazioni di discriminazione e di disagio sociale. Anche nel nostro territorio abbiamo avuto recentemente alcuni casi anche di attacchi violenti alle persone proprio per una discriminazione di genere. Chiaramente la finalità della rete sono ad ampio raggio nel senso che è importante mettere in atto delle azioni concrete appunto contro le discriminazioni ma è anche importante costruire questa rete a cui appunto fanno parte le pubbliche amministrazioni a livello nazionale quindi province, regioni, comuni ma anche le associazioni che contrastano appunto le discriminazioni di genere e soprattutto anche gli organismi di istituzioni di parità. Chiaramente le azioni sono azioni informative e informative sulla popolazione ma anche sulle persone che debbono in qualche modo entrare a contatto e risviluppare delle azioni concrete quindi sia rivolto al personale delle pubbliche amministrazioni ma rivolto anche al personale delle istituzioni sanitarie ad esempio oppure della scuola o delle persone che lavorano all'interno anche delle agenzie di formazione. Un altro campo su cui ci si rivolge è quello del lavoro e quindi fare degli eventi formativi contro le discriminazioni di genere sul mondo del lavoro. Ecco che concretamente l'adesione alla rete Redi comporta un confronto costante e continuo con le altre amministrazioni anche a livello nazionale ed anche a livello europeo ma anche un confronto con le persone appunto che si occupano di questo problema con le associazioni con le altre enti pubblici anche a livello locale per cercare innanzitutto di fare un'azione di informazione sulla popolazione contro quelle che sono le discriminazioni e invece mettendo luce su quelle che sono le azioni di inclusione e di rispetto di queste persone. Io ringrazio Rossini TV per avermi concesso questo spazio e parlare dell'adesione del comune di Vallefoglia alla rete Redi che da circa 14 anni riunisce tante pubbliche amministrazioni di tutto il territorio nazionale quindi regioni, province e comuni impegnati nella lotta alle discriminazioni delle persone LGBT. Gli obiettivi che questa rete si pone sono quelli di promuovere delle politiche di inclusione sociale delle persone LGBT e di favorire l'incontro, il confronto fra le differenze che non vanno giudicate come una minaccia ma come un arricchimento di tutta la società. Quindi io ringrazio a gran voce l'amministrazione comunale di Vallefoglia perché ha dimostrato una grande sensibilità per i diritti civili e consentito al nostro comune di fare un grande passo in avanti in termini di civiltà. In tutto questo c'è anche una grandissima impronta dei giovani democratici perché è una battaglia che noi abbiamo sottoposto all'amministrazione e così è accaduto anche nei comuni di Fano, di Pesaro e a breve anche nel comune di Gabiccia. Quindi tutto questo è anche grazie all'impegno e alla forza propulsiva dei giovani democratici che ogni giorno sono impegnate sul fronte dei diritti civili. Noi aderiamo come Vallefoglia a questa rete proprio nella direzione di voler sensibilizzare i nostri cittadini contro ogni forma di violenza perché ricordo a malincuore l'evento dello scorso anno davanti al Colosseo di Montecchio quando un ragazzo omosessuale è stato menato e aggredito per il suo orientamento sessuale vogliamo promuovere un modello di società aperta solidale, inclusiva e attenta ai diritti di tutti. In questi giorni dal centro-destra ci siamo sentiti dire di voler condizionare la vita dei bambini di voler fare aggressioni ideologiche addirittura di somministrare un farmaco che rallenta lo sviluppo dei bambini. Non c'è nulla di tutto questo perché il nostro unico interesse è quello di veicolare tramite iniziative tramite momenti di confronto dei messaggi positivi di una società che vuole essere inclusiva che vuole respingere ogni forma di discriminazione, di violenza e di odio è una società attenta verso i diritti di tutti. Quindi ringrazio ancora l'amministrazione di Vallefoglia e il mio ospicio è che tanti comuni della provincia di Pesururbino e delle Marche facciano questo grande passo di civiltà. E anche in base al periodo storico in cui ci troviamo il sindaco di Vallefoglia Palmirucchielli ha espressamente richiesto un potenziamento delle punti informativo lavoro di Morciola una necessità per rispondere sempre più prontamente alle esigenze dei cittadini e alle imprese del territorio in materia di occupazione e di lavoro. Ma diciamo che l'obiettivo di questa città del sindaco, della giunta, del consiglio comunale è su tre grandi questioni la tutela della salute la casa della salute il potenziamento della casa della salute la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e il rafforzamento del punto informazione al lavoro del centro per l'impiego perché dialogando le imprese che cercano lavoratori per fortuna ancora qui da noi e dialogando con chi cerca lavoro rafforzando il punto informazione al lavoro ovviamente quando uno ha la salute e il lavoro e il terzo obiettivo è quello che dicevo poco anzi che è quello della sicurezza della serenità delle persone perché sanno che qui a Vallefoglia le regole si rispettano e si tutelano gli interessi della comunità. E adesso concludiamo con lo sport nelle campionate di serie 2 di pallavolo femminile doppio turno per la Megabox e Vallefoglia tra weekend e infrasettimanale e doppia vittoria. La squadra allenata da coach Fabio Bonafede ha prima vinto la gara casalinga disputatasi domenica alle palle di Nisi di Montecchio per 3-2 contro il Cutrofiano e si è ripetuta tre giorni più tardi andando a vincere a Ravenna per 3-0. Ora la squadra delle presidenti Ivano Angeli è salita alle prime poste in classifica con 11 punti proprio alla pari con il Cutrofiano. Nelle weekend seguente la Megabox non ne scendereà in campo a causa delle turno di riposo. Nelle calcio, nelle campionato di eccellenza nella terza giornata un'importante vittoria in trasferta per l'atletico Gallo Colbordolo sulle campi della Iesina. I rosso-blu segnano una rete per tempo a sbloccare la gara e il solito muratore che alle 31esimo delle primo tempo segna la sua quarta rete stagionale. I legole delle 2-0 arriva invece alle 12esimo delle secondo tempo con Bartolini. Ora il legallo è al quinto posto in classifica con 6 punti nelle prime tre partite ma solamente a meno uno dalla vetta occupata al momento da bene 4 squadre. E siamo giunti alle termine di questa nuova edizione delle Vallefoglia Magazine. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi qua su Rossini TV canale 633 del Digitale Terrestre. Non mi resta che rinnovarvi l'appuntamento a venerdì prossimo sempre alle ore 19 e augurarvi una buona serata. Grazie a tutti.